Gli obiettivi del progetto hanno riguardato la sostituzione dell'attuale sistema con un portale più integrato, in grado di garantire una forte integrazione verso il back-end, una modificabilità e manutenibilità nel tempo, la messa in sicurezza del catalogo prodotti e poi lo sviluppo della parte mobile, con un'applicazione che ripercorre le stesse funzionalità dell'applicazione portale ma gestibile in modalità offline da tablet. Questi sono i due canali che stiamo attivando nel progetto, quindi in basso c'è la parte ERP che è il sistema di back-end, stiamo sviluppando delle applicazioni con la tecnologia delle web di impro per portare fuori e rendere fruibili via internet l'applicazione di gestione dei clienti e raccolta ordini e in parallelo sulla stessa base dati stiamo sviluppando la parte di mobile application. Sulla parte di funzionalità di user experience, le funzionalità sono quelle tipiche di una soluzione di Salesforce, quindi gestione della grafica cliente, gestione dei listini, la raccolta dell'ordine di vendita, la visualizzazione di uno storico degli ordini e la possibilità di profilare gli utenti con dei livelli generali. Queste strutture di vendita non sono mai strutture biate, quindi parliamo di un gruppo di agenti che hanno un capo aria, il capo aria può fare riferimento a un capo che può essere il capo della country, i quali fanno a loro volta riferimento alla direzione aziendale. Quindi dobbiamo gestire anche questo aspetto dei dati che devono essere profilati a seconda dell'utente che si collega. Una particolare attenzione è stata data alla grafica usabilità dell'applicazione, non dimentichiamoci che il modo di lavorare della gente con i tablet rispetto a quando lavorava con i portatili cambia radicalmente, è davanti al cliente e il cliente è in grado di vedere quello che sta facendo. Quindi bisogna valutare bene l'usabilità dell'applicazione, bisogna anche valutare bene i dati che diamo fuori e i dati invece che non facciamo vedere, perché si rischia di far vedere dei dati che sono riservati al cliente. Quindi abbiamo fatto uno studio grafico, diciamo, importante, non è stato minimamente tralasciato, vi ho messo un po' di esempi, come potete vedere, vi ho messo un esempio di una grafica cliente, la possibilità, diciamo, di utilizzare le funzionalità native del device, tipo il collegamento con Google Map, per cui quando sono in una grafica cliente, cliccando su Google Map, vedo dove si trova e posso anche vedere tutti i clienti altri che sono nella zona, questo è molto utile per la gente per poter vedere dove può andare dopo che ha fatto la visita. L'integrazione con la posta elettronica, quindi possibilità di spegnere mail e inviare direttamente dall'applicazione e così via. Sulla parte di raccolta ordini, anche qui abbiamo studiato un flusso particolare, che è una specie di workflow dove si parte dall'inserimento dell'anagrafica del cliente, il passaggio ai dati di testata dell'ordine, vengono visualizzati in modo molto diverso, ma in realtà sono gli stessi dati che vengono replicati dal sistema di back-end, dal sistema SAP, non sono dati autonomi, sono dati del pequeno. Il caricamento poi delle rive rorde con la possibilità di scegliere i prezzi, i vari sconti e queste sono particolarità di come viene fatta la scontistica e il listino di data.